Ecco, buonasera a tutti. A 30 anni dall'uscita di Doom, volevo parlare da grande fan del gioco un attimo di come si fa a creare le mappe e a modificarle. Di fatto è un gioco più vecchio di me, però l'ho sempre apprezzato, poi io da modder incallito mi è sempre piaciuto modificare i giochi. E' una piccola premessa, quello che sto per spiegare è un po' frutto della mia esperienza, esperimenti vari, quindi magari non prendetelo come la Bibbia ma sperimentate anche voi, sicuramente ci saranno modi più migliori per fare le stesse cose. Partiamo da qualche slide teorica, poi se riesco faccio una demo al volo. Intanto il gioco è formato essenzialmente da due parti, una parte che è il motore di gioco, che è poi quello che fate partire, l'eseguibile. E l'altro è un archivio in questo formato WAD, che sta per Where is all data, dove sono memorizzate tutte le risorse di gioco sotto forma di questi frammenti che vengono inseriti tra dei marker, poi se riesco faccio vedere meglio, e sono identificati da un nome di otto caratteri. Questo perché DOS supportava fino a otto caratteri. Questi sono proprio quello che andremo a modificare, il WAD, che poi potete anche distribuire. Essenzialmente ce ne sono di due tipi, i WAD che funzionano da soli, basta solo l'eseguibile del gioco e l'IWAD stesso, e il PWAD che si appoggia invece all'IWAD, ne modifica le risorse. Per dire, se io creo un patch WAD e dentro ci inserisco dei frammenti che hanno lo stesso nome dell'IWAD a cui mi sto appoggiando, semplicemente vengono sostituiti con quelli che ho inserito io. Qui sulla destra vedete qualche esempio di IWAD commerciale, il famoso Doom 2.WAD, che è quello che fondamentalmente usavo io. Questi sono i software per me essenziali per mettermi a modificare, insomma. Io uso due editor, uno per creare le mappe e uno per le risorse. In realtà poi l'editor di risorse ha anche un editor di mappe all'interno, ma anche lì ho fatto esperienza in questo modo con i due editor di cui dopo parlerò. Quindi tuttora uso questo sistema. Il Sourceport, che è il codice sorgente di Doom, modificato per funzionare sui sistemi moderni. Visto che il gioco originale del 93 andava su DOS, adesso è un po' difficile farlo andare così di base, ma essendoci una grande community di sviluppatori a 30 anni dall'uscita del gioco sono riusciti a fare un sacco di porting per sistemi moderni. E poi, sebbene sia possibile creare da zero un IWAD che funzioni da solo, io consiglio di iniziare appoggiandosi a uno già esistente, perché è piuttosto impegnativo partire da zero. Io userò per quest'ultimo FreeDoom per motivi di copyright essenzialmente, perché Doom è open source ma le risorse di gioco non lo sono. FreeDoom invece è libero. Comunque le modalità saranno esattamente le stesse. Due parole sul fatto che è open source. John Carmack, il creatore, è un forte sostenitore di questa filosofia. Infatti dopo solo quattro anni ha pubblicato il codice sorgente del gioco. Ma così come Wolfenstein, altro sparatutto creato da lui prima, stessa cosa. Questo, cioè il fatto di rilasciare i sorgenti, che vedete il GitHub, più il fatto che il motore è estremamente leggero, ha permesso, diciamo, alla community di creare svariati porting per diverse piattaforme, console, stampanti, citofoni, bancomat, da cui è nato, diciamo, il meme, i trans Doom. E infatti cercando esattamente questa cosa su Google esce fuori un mondo. Diciamo, al momento purtroppo non ho ancora imparato a eseguire Doom su un test di gravidanza. Quindi mi limiterò a spiegare come creare le mappe. Comunque dico che anche da quel punto di vista c'è una community molto attiva. Dunque, iniziamo un lungo viaggio che parte dal concetto di planimetria, come quella di casa vostra, sulle schede catastali. Io adesso ho disegnato un semplice quadrato, una stanza divisa in quattro, e evidenzierò i vari elementi in modo che poi sapremo di cosa stiamo parlando. Abbiamo i vertici, non so se si vedono, che diventano rossi, semplicemente dei punti monodimensionali. Abbiamo le line defs, che sono delimitate dai vertici, sono delle linee, contengono informazioni sulle texture, possono triggerare degli eventi, poi vi farò vedere un attimo come. Se notate, hanno una linetta esattamente a metà, e quella linetta, non so se si vede bene, dopo si vedrà meglio, rappresenta la parte frontale. Questo vi aiuterà a capire dove mettere le texture. Poi ci sono i settori, che sono delle porzioni di mappa delimitate dalle line defs. Non sono per forza stanze, come vedrete tra un attimo, e possono avere degli specials, cioè per esempio fare danno al giocatore quando ci passa, o avere degli effetti di luce particolari. E poi ci sono gli oggetti, i sprite, mostri, armi, chiavi, decorazioni. Questo qua che vedete è per esempio il spawn, dove inizia il giocatore. Avete davanti un terrapiattista. Anche se Doom è di fatto 3D, le mappe non lo sono, sono piatte. Ecco perché parlavo di planimetria. Si parte proprio da una mappa piatta. Cosa succede? Che ogni settore contiene tra le sue proprietà l'altezza del pavimento e l'altezza del soffitto. E basandosi su questo, poi il motore grafico riesce a tirare fuori il 3D. Tutto questo sempre per mantenere il tutto leggero ed eseguibile dall'hardware dell'epoca. Chiaramente nessuno aveva l'RTX di adesso. Si faceva quello che si poteva. Questo purtroppo ha degli svantaggi. Alcune cose che magari qualcuno l'avrà notato non si possono assolutamente fare. Mettere un settore sopra un altro, quindi non posso per esempio disegnare un tavolo come quello che avete di fianco, ma devo fare un oggetto solido. La parte sotto non ci può essere, perché se in un punto c'è già un settore non ne posso mettere un altro sopra, andrebbe in conflitto. Non posso disegnare delle rampe lineari, non posso mirare liberamente, non posso saltare. Tutto questo è stato risolto dai moderni porting. Chiaramente hardware moderno, codice più moderno. Adesso vi faccio vedere una dimostrazione del fatto che la mappa parte in 2D e alla fine diventa in 3D. Questa è esattamente la mappa di prima. Prima non si vedeva il 3D, adesso si vede. I formati della mappa che si possono creare sono essenzialmente questi due. Quello originale del 93, che è un formato binario, ed è compatibile con Doom Vanilla, cioè la versione originale per DOS, e tutti i moderni porting. Le funzionalità sono limitate, quindi per dire non ci sono... C'è un numero massimo di settori che posso allocare, un numero massimo di oggetti, poi dopo il gioco crashava. Anche se non succede con i porting di adesso, diciamo, uno magari vuole creare una propria mod che sia compatibile con il gioco originale. Poi è stato definito il formato UDMF, che sta per Universal Doom Map Format, che invece di essere binario è testuale, ed è stato creato con l'idea dell'espandibilità. Ci sono funzionalità moderne, tipo scripting, telecamere, attori, quindi uno può creare delle scenette nel gioco, i polyobjet, che sono fondamentalmente le pareti che si muovono, che nel gioco originale non c'erano, al massimo i pavimenti si muovevano. Incredibilmente si possono creare settori sovrapposti, palazzi, tavoli e quant'altro. Il mio consiglio è di iniziare col formato originale, perché è molto più semplice, poi una volta masterato quello si può passare al UDMF se si vuole, ma non è obbligatorio. Lascio qualche link utile, questi sono i software che uso io, Ultimate Doom Builder per modificare le mappe, Slade 3 per le risorse, e come porting uso Zandronum. Poi anche lì c'è una miriade di cose che si possono utilizzare. Ho linkato anche la wiki dove tutti questi concetti si trovano, e il forum con tutta la community di smanettoni. ho messo anche il github di Doom, creato proprio da John Carmack. Adesso avvio un attimo il software per modificare le mappe. Perché non si vede? Scusate un attimo. Ok, ora si vede. Questo qua. Diciamo, all'inizio si presenta come una specie di CAD dove andremo a disegnare la planimetria. Adesso io imposto il formato Doom originale, do un nome alla mappa, e aggiungo il mio iWAD a cui mi voglio appoggiare, che è quello di FreeDoom, come dicevo prima. Adesso lo vado a pescare qua. Prendiamo questo. E ok. Questa è la mappa vuota. Abbiamo varie modalità di disegno, disegnare linee, archi, direttamente i settori e modalità di selezione. Se voglio selezionare dei vertici, delle line defs, dei settori o degli oggetti. Partiamo con disegnare una stanza base. Vado a selezionare Draw Line, clicco, e come vedete traccio delle linee. Ecco qua che mi ha creato una stanza base. Con Q posso già vederla e con ESDF, non chiedetemi perché non è WASD, mi posso muovere all'interno della stanza. Adesso aggiungo il punto di inizio del giocatore. Ho selezionato la modalità Things e col tasto destro mi apre questa finestra e scelgo Player 1 Start. Io posso dire l'angolo dove iniziare. e qua posso aggiungere anche mostri, chiavi, armi, tutto quanto. Possiamo creare per dire al volo un'altra stanza con una porta così vi faccio vedere le azioni che si possono fare. Adesso ho creato un altro settore nuovo e creerò un'altra stanza dall'altra parte. Faccio molto velocemente e verrà un po' strata, va bene. Ecco qua. Una stanza piccola. Adesso aggiungo la sbagliato era ancora in modalità Things mettiamo modalità Line Defs perché mi interessano le linee adesso. Aggiungo un altro settore qui che sarà di fatto la mia porta e adesso vi faccio vedere che selezionandola e tirandola giù mi dice che manca la texture. Aggiungiamo la texture. Un tasto destro mi dice già quale manca. Come vedete c'è sia front side sia back side. Queste sono le famose side defs. ne abbiamo tre per ognuna. La upper è quella sopra al soffitto che infatti è quella che ci dice che manca. La middle è quella a metà e la lower è sotto il pavimento. Adesso aggiungo seleziono per esempio big door faccio la stessa cosa dall'altra parte seleziono big door e adesso ecco c'è un piccolo problema cioè che se la muovo come vedete si muove anche la texture qui a lato. Non è una bella cosa da vedere quindi adesso lo risolvo subito selezionandola col tasto destro e seleziono lower unpegged faccio la stessa cosa dall'altra parte lower unpegged e adesso non si muove più. Perfetto. Tiro giù questo chiudo la mia porta e adesso imposto le azioni. Intanto queste due line defs sono al contrario le seleziono e premo F in modo che la lineetta sia verso l'esterno. Poi faccio tasto destro qua dove c'è action posso scegliere le azioni. Qui c'è tutta la leggenda cioè tipo wall cover se il player ci cammina o gunfire se il player spara contro switch door scegliamo door facciamo door open wait close cioè si apre aspetta un certo ritardo predefinito e si chiude qui ho messo questo tag identifica quale settore si dovrà aprire o chiudere zero significa quello dietro la line def posso anche per dire impostarlo a uno basta che poi questo settore qua che voglio che si apra gli dia lo stesso tag uno e lui mi fa vedere adesso che l'ha collegato adesso provo un attimo a eseguirla vediamo se funziona tutto ecco mi dice che non ho configurato il software sport cioè mi dice che io come come la faccio partire questa mappa io lo dico adesso semplicemente vado a prendere zandronum che c'è sul desktop questo e dovrei poterla già eseguire mi fa già partire dalla mappa giusta ed ecco che la porta si apre aggiungiamo aggiungiamo qualche mostro ma sì dai aggiungiamo qualche mostro se abbiamo tempo andiamo in things mode sempre il tasto destro per aggiungere monsters mettiamo questo coso arribile e adesso vedremo che c'è il mostro poi per ogni things che aggiungete potete anche impostare il livello di difficoltà a cui c'è o non c'è eccolo qua è una specie di sanguisuga l'ultima cosa che se faccio in tempo vi faccio vedere è come aggiungere contenuti al gioco o al al wad invece di usare solo quelli che ci sono già intanto lo salvo per adesso sul desktop io voglio aggiungere quest'immagine qua una esatto una casa allora uso l'altro editor che ho consigliato che è Slade che mi permette di aprire proprio l'archivio questo è quello che ho appena creato lo apro si vede già che c'è la mia mappa all'interno con tutti i vari lamp che descrivono la mappa che ho creato prima adesso aggiungo faccio tasto destro new entry come dicevo i lamp sono delimitati da dei marker che hanno nomi precisi io adesso voglio aggiungere l'immagine come texture e quindi la devo racchiudere tra i marker tx start e tx end poi tutte queste informazioni si trovano sulla wiki quindi aggiungo tx start aggiungo questo qua me l'ha già rinominato come con gli otto caratteri e poi aggiungo la new entry tx end ecco qua i moderni porting supportano l'uso di png come texture cioè proprio in formato png se no qua si possono anche convertire in formato nativo perdendo chiaramente un po' di informazioni sul colore dobbiamo convertirla ci va bene lo stesso adesso salvando dovrei riuscire a vederla dentro all'editor lo riavvio nel caso apro la mappa che ho creato prima creo una linea da 128 faccio così scusate mi sto un attimo incartando ok a questo punto seleziono line depth mode seleziono la linea e cambio la texture middle che è quella che vedete diciamo a metà vediamo se riesco a a trovarla giusto devo anche caricare la texture nuova per un attimo map 01 aggiungiamo come risorsa quello che ho appena creato vediamo se riesco a vederla adesso andiamo in all non riesco a vederla per qualche motivo sarà qua provo a farlo un attimo perché l'avevo già fatto in un'altra mappa mi sa che ho sbagliato il nome del tag ho fatto qualche test questa è in udmf probabilmente il tx start tx end è fatto apposta per udmf per il formato originale c'è un altro nome proviamo un attimo a vedere se faccio faccio la stessa cosa di prima lo apro con slade test ragazzi l'ho già aggiunta eccola qua allora adesso vediamo se mi tradisce di nuovo eccola qua ce l'abbiamo l'ho aggiunta nel back l'aggiungo anche nel front ed ecco che la vediamo qua chiaramente adesso ed ecco ask in doom adesso è passabile è no clippata cioè io ci posso passare attraverso posso anche impostare che non ci posso passare attraverso ogni linea ha le sue proprietà impostabili in properties faccio impassable semplicemente ecco che è diventata bianca solida esattamente come i muri e quelli esterni e adesso non ci potrò più passare attraverso ecco qua non ci passo più niente questo è quanto poi spero di avervi un po' ispirati e iniziare questo che potrebbe essere un ottimo hobby nel senso io per tanto tempo non sapevo che cosa fare mi sono messo a creare qualche mappa a caso grazie ecco vi faccio vedere al volo una roba che ho fatto prima di venire qua una specie di tempio satanico con una fontana di sangue ultimissima cosa poi giuro che vi lascio ho aggiunto un paio di nemici base un passaggio segreto qua che mi fa prendere il fucile ecco guarda come spacco i culi questa è quanto doom e spaccare i culi brutal doom è una mod creata da dei pazzi è ancora più spaccare i culi hanno aggiunto diversi effetti di sangue violenza estrema grezzo 2 non so chi di voi lo conosce lì andiamo proprio a livelli gli strumenti sono gli stessi con cui hanno creato grezzo 2 sono questi scusa assai senz'altro che mi pare o quest'anno o l'anno scorso è stato trovato l'ultimo segreto di doom hai presente? che i livelli si possono finire al 100%? non mi sono documentato sulla cosa dimmi un po' vabbè niente di che c'era questo segreto che non era ancora nessuno aveva mai completato completamente doom al 100% perché bisognava spingere per attivare l'ultimo segreto un mostro all'interno di un teletrasporto e sarebbe stato il mostro ad attivare il segreto vabbè ma questo non sapevo interessante comunque dopo cerca su google ma io mi chiedevo e qua ecco che arriva la domanda ma i segreti non sono scritti su sulle mappe sui VAD allora i segreti sono dei settori speciali come dicevo prima ci sono degli special che si possono assegnare i settori e praticamente vengono nascosti nella nella mappa all'interno del gioco finché non li trovi adesso proviamo un attimo ad aprire questo questa demo di prima seleziono questo settore e nello special qua sotto posso dirgli secret questi sono tutti gli special che ci sono vedete ci sono i danni al giocatore e dei diversi effetti di luce ok che è il codice numero 9 se io provo adesso ad eseguirlo in teoria se non mi tradisce di nuovo non do che spavento non dovrei vederlo di nuovo non mi ricordavo di aver aggiunto questo ok non dovrei non riesco ad aprire la mappa ecco se io vado qua mi dice secret is revealed perché vuol dire che ho trovato un segreto per qualche motivo non mi fa aprire la mappa forse sono i comandi comunque di base non lo vedete nella mappa all'interno del gioco finché non c'è andate diciamo che potrebbe essere il fatto spingere un mostro non è una cosa che normalmente fai anzi non pensavo neanche che si potesse in realtà pensavo fossero che ti bloccassero i mostri invece di poterli spingere proviamo ad aggiungere a cambiare questo special metterci non so damage adesso vedremo che se io ci vado prenderò danno eh vabbè quello prendo danno e lampeggio pure la luce ecco sono morto niente diciamo come motore grafico è molto semplice ma anche facile da imparare a usare e lo consiglio un po' a tutti anche perché poi voglio ammettere moddare il gioco della propria infanzia da una certa soddisfazione si può fare e poi ci combattiamo tutti a vicenda all'interno facciamo la LAN party spento forse adesso è acceso no mi sarebbe spento adesso ho spento adesso adesso è acceso metto subito allora task per i prossimi giorni forse è di riprodurre l'area C2 in Doom beh allora comunque grazie mille ad Alessandro Ziofranco new entry dell'ERC di quest'anno un grande applauso per lui grazie 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 a tutti grazie a tutti